Blitz della Guardia di Finanza a Canicattì durante il Carnevale, sequestrati a scisce e cocaina. Un ragazzo sorpreso con uno spinello dopo una delusione sentimentale. Accade che si litiga durante le sfilate dei carri allegorici, forse perché la confusione esagita e in fuoca. E così, ad esempio, a Favara i carabinieri hanno arrestato tre presunti rissanti. Accade che si approfitta del caos del Carnevale per rubare, forse perché la tentazione di scippare e scappare è irresistibile. E così, ad esempio, a Sciacca la polizia ha arrestato un uomo di Misilmeri in flagranza di reato di scippo. Accade che si fuma la marijuana durante le feste in maschera, non perché è Carnevale, ma perché si litiga con la fidanzata. E così, ad esempio, a Canicattì la Guardia di Finanza ha segnalato al prefetto di Agrigento, un ragazzo di 21 anni, che alla domanda delle fiamme gialle ha risposto, fumo per dimenticare. È vero come è vero che a Carnevale ogni scherzo vale, ma lui, il canicattinese, si è giustificato davvero così. Sì, ho subito una delusione sentimentale e così adesso fumo gli spinelli. Blitz della Guardia di Finanza alla Carnevale di Canicattì, i militari capitanati dal tenente colonnello Vincenzo Raffo e dal tenente Francesco Auriemma. Insieme a loro anche un cane segugio. Il quadrupede è stato prezioso, il pastore tedesco ha fiutato la droga in via Ferrucci. Il cane ha abbaiato, il ragazzo di 21 anni ed un altro di 22 anni sono scappati, li hanno inseguiti tra la folla del Carnevale. I due sono stati acciuffati e così la Guardia di Finanza ha sequestrato due grammi di cocaina, cinque grammi di hashish e 160 semi di canapa indiana. I due canicattinesi adesso sono iscritti nell'elenco della prefettura di Agrigento dei consumatori abituali di stupefacenti. Però accanto al nome del ragazzo di 21 anni è stato scritto, fuma lo spinello per dimenticare l'ex fidanzata. Grazie 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 Grazie